Buongiorno e buon sabato ai telespettatori della CIE e benvenuti a un nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo subito con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, partiamo dal quotidiano Il Garantista, in apertura la polemica che riguarda la sanità calabrese, la sanità calabrese è morta, titola oggi Il Quotidiano di Piero Sanzonetti, ospedali e pronto soccorso al collasso, livelli di assistenza inesistenti e medici pronti allo sciopero, ma a Roma pensano ad altro e la nomina del commissario salta, colpa dei veti incrociati di PD e nuovo centrodestra. Da Cosenza la vicenda di un uomo franco ha bisogno di una flebbo, l'ASL risponde arrangiatevi, così i malati diventano voti utili ma le urne sono quelle funerarie, il commento a firma di Maria Assunta Veneziano. E ancora accanto da Reggio Calabria impianti di areazione nocivi, ecco perché hanno evacuato neonatologia. E ancora sempre in primo piano una vicenda che riguarda la politica, riesplode la grana di Gaetano, la Lanzetta chiama la bindi, l'antimafia mi ascolti. Dunque ancora a grane per Maglio Oliverio, Maria Carmela Lanzetta, l'ex ministra che ha ripetato l'incarico di assessore ed è entrata in rotta di collisione con i vertici del PD calabrese, ha chiesto di essere sentita dalla presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, argomento il caso dell'assessore De Gaetano. E ancora l'operazione Emilia mi hanno arrestato per spettacolarizzare l'indagine, questo è lo sfogo di un indagato nell'ambito di questa grande operazione. E ancora dalla Locri de Bufera sul comune di Siderno, spediti 20 avvisi di garanzia. E ancora si parla di politica, centro-destra nel caos, il Tar non decide, la Ferro è sempre fuori dal Consiglio regionale, rinviata la pratica della candidata governatrice di Forza Italia, esclusa da Palazzo Campanella. E come ogni sabato ci sono le notizie che riguardano lo sport, spettacolo al San Vito, Cosenza e Regina si giocano la salvezza. E ancora c'è un'inchiesta interessante riportata questa mattina sul Garantista che riguarda i rifiuti tossici, eccola quei siti contaminati e mai controllati, l'inchiesta pagina 7 del Garantista. E andiamo avanti, adesso ci soffermiamo sulla prima pagina del Quotidiano del Sud, l'apertura è riservata a un altro argomento, ovvero gli ultimi dati dell'Istat che rivelano come la Calabria sia l'ultimo posto in graduatoria anche per quanto riguarda il livello di istruzione. Andiamo a vedere in particolare il titolo, altro allarme dall'Istat, siamo pure ignoranti. Titola stamattina il Quotidiano del Sud, analisi del rapporto annuale, conferma come il 47% delle persone tra i 29 e i 65 anni ha al massimo la licenza media. Dunque nella Calabria c'è ne rentola che emerge dallo studio Istat del 2015, sono tanti dati che meritano di essere approfonditi. Si scopre ad esempio che tra le bestie nere c'è l'istruzione e il 47%, abbiamo già riferito, delle persone tra i 29 e i 65 anni hanno al massimo la terza media. E poi ancora, sempre in primo piano, la vicenda dell'imprenditore Lametino che si è tolto la vita qualche giorno fa in corteo con 100 candele. Un grido di dolore e di aiuto, la fiaccolata per l'imprenditore suicida, dunque 100 candele, un sit-in partecipato carico di rabbia e dolore, quello di ieri alla Mezzia, per ricordare l'imprenditore che si è tolto la vita, oppresso dai debiti, dalla pressione fiscale e dalle complicazioni burocratiche. Un grido di aiuto affinché storie come queste non debbano mai più ripetersi. E ancora la politica dal Partito Democratico che prepara la riscossa, vuole uscire dall'angolo e pensa a una grande convention, dunque questo l'esito della riunione che si è svolta ieri tra il gruppo regionale dove è emersa la volontà di dare vita a una grande convention e di misurarsi con la realtà calabrese. E poi la notizia che riguarda l'arrivo nella nostra regione di fondi pari a 120 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Andiamo a sottolineare questo altro titolo, dunque che riguarda l'edilizia scolastica. E ancora un altro articolo, calabresi nel mondo, Pino Galati, sempre agito con trasparenza e correttezza. Ancora, sempre in primo piano, si parla delle nostre bellezze paesaggistiche, in particolare di Tropea, eletta tra le dieci spiagge più belle d'Italia, ma sulla costa tirrenica, dal Cosentino al Vibonese, sequestrate 38 strutture balneari. L'Andrangheta, il processo dalle dichiarazioni di Lea, si parla di Lea Garofalo, chiesti cinque ergastoli per il clan di Petili. Il PM ricorda il sacrificio della testimone di giustizia per la prima volta, le sue rivelazioni a fondamento di un procedimento. Dunque, chiesti cinque ergastoli per il clan di Petili. Il processo è il primo scaturito dalle dichiarazioni di Lea Garofalo. Il PM ha ricordato, appunto, come dicevamo, il suo sacrificio. E ancora, cambiamo il quotidiano, ci soffermiamo adesso come ogni sabato sulla prima pagina del settimanale Il Vibonese, il periodico gratuito in edicola, nelle principali edicole appunto del Vibonese. L'apertura ovviamente è dedicata alle primarie che si svolgeranno, le primarie del centro-sinistra che si svolgeranno proprio domani. Ecco, vediamo i tre candidati in questa foto riportata in primo piano sul Vibonese. Domani si vota per le primarie del centro-sinistra. Dunque, i candidati sono Pietro Giamborino, Antonio Loschiavo e Francesco Colelli. Questi sono i tre candidati da questi tre nomi. Poi spunterai il nome del candidato del centro-sinistra per le amministrative di Vibonese. Intanto Forza Italia, per quanto riguarda il centro-destra, attende il risultato delle primarie proprio per decidere come uscire dallo stato. Nella foto, Elio Costa, il giudice Elio Costa, candidato del centro-destra. Come ogni settimana l'editoriale, a firma di Pasquale Motta, questa settimana parla, lo vediamo insieme, il titolo, In Calabria, approssimazione e idiozia, fanno più danni di indrangheta e sottosviluppo. Così il titolo dell'editoriale di Pasquale Motta, questa settimana su il Vibonese. E ancora un altro argomento riguarda la biblioteca comunale di Vibo Valencia, lettera appello contro la chiusura della biblioteca comunale. Quindi ne parleremo più avanti nel corso della nostra rassegna stampa. Andiamo avanti. Adesso io mi soffermerei sulle pagine interne del quotidiano del Sud. Lo abbiamo visto insieme. Il titolo di apertura, che riguarda appunto l'allarme Istat sul rapporto annuale, che praticamente dice come in Calabria ci siano molte persone che hanno al massimo la licenza media, in particolare il 47% delle persone. Andiamo appunto a vedere questo articolo, andiamo ad approfondirlo in primo piano. La bestia nera e l'istruzione. Così il titolo questa mattina nella pagina numero 6 del quotidiano del Sud. Il 47% delle persone tra i 29 e i 65 anni ha al massimo la licenza media. Luce e ombre di una regione nei dati dello studio dell'Istat No Italia 2015. E poi c'è l'intervista a una classe dirigente incapace di frenare questa discesa agli inferi. Ne è convinto il docente di sociologia Vittorio Mete, docente di sociologia dei fenomeni politici all'Università Magna Grecia di Catanzaro, proprio alla luce del rapporto No Italia 2015 dell'Istat sulla Calabria. L'antidoto, dice un altro intervistato, è proteggere il capitale umano, soprattutto i giovani. A dirlo è Guerrino D'Ignazio, prorettore dell'Unical e docente di diritto pubblico comparato. Dunque questa è la ricetta per uscire da questa fase di stallo in cui vive la Calabria. E poi la politica. Subito il commissario alla sanità. Dunque la sanità in primo piano. Il capogruppo Romeo, vogliamo portare la Calabria al passo con il resto del paese. A Catanzaro la prima riunione del Partito Democratico alla presenza di Oliverio e del segretario Magorno. Dunque il Partito Democratico Calabrese intende uscire dall'angolo in cui si è cacciato, nonostante la vittoria alle regionali. Vuole dimostrare che è una forza viva e vegeta e per esporlo plasticamente ha in mente di organizzare nei prossimi giorni una grande convention all'auditorium dell'agricolimentare di La Mezzia Terme con il presidente Oliverio, appunto, e con il segretario del PD Ernesto Magorno. E poi la vicenda dell'ex ministro Maria Carmela Lanzetta. La solitudine della Lanzetta, titola Oggi il quotidiano, l'ex ministra sarà sentita dalla commissione antimafia. Andiamo avanti dalla Calabria, l'Andrangheta, clan di Petiglia, chiesti cinque ergastoli. L'articolo è riportato anche in apertura. Il PM ricorda il sacrificio di Lea Garofalo per la prima volta, sue rivelazioni in un processo. Proposte 14 pere pesanti, tra cui 1 a 30 anni per il boss grande Aracri. E ancora, da La Mezzia Terme, che non sia una parata politica. Il titolo è riferito all'imprenditore suicida di La Mezzia Terme, in particolare la fiaccolata che si è svolta ieri a La Mezzia. 100 candele accese per ricordare la tragedia, ancora polemiche contro Equitalia. Commozione e rabbia al Sitini, in memoria dell'imprenditore, ucciso dai debiti. E ancora, chieste sei condanne per il clan Bellocco. In aula pure un giudice. Dunque ieri il processo a Catanzaro. E ancora, da Limbadi, la notizia del boss di Limbadi. L'Uni Mancuso torna in Italia. Il boss è stato estradato ieri dall'Argentina e poi in basso, nella foto, l'arrivo di Mancuso a Fiumicino. E ancora, la confisca dei beni, sempre per quanto riguarda la cronaca. Ci trasferiamo a Reggio Calabria. Confiscati beni per 25 milioni di euro. Colpito il patrimonio di imprenditore ritenuto colluso con il clan Labate. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria presieduta da Ornella Pastore. E ancora, andiamo avanti. Parliamo di turismo, spiagge da Oscar, c'è anche Tropea. Questa è una delle notizie positive riportate stamattina sul Quotidiano del Sud. Il portale di viaggi TripAdvisor la inserisce tra le dieci più belle in Italia. Importante riconoscimento, appunto, per la località balneare calabrese. Entusiasti i commenti e i giudizi del popolo del web. Ha presa la notizia nella foto. In primo piano, uno splendido scorcio del litorale di Tropea. Però c'è un altro dato da tenere presente. Intanto il mare ci divora le coste. Il tratto più critico è quello compreso tra San Lucido, Longobardi e Belmonte. Sempre sul Tirreno si consuma il dramma dell'erosione. Andiamo avanti. Continuiamo a sfogliare le pagine del Quotidiano del Sud. Dalla costa tirrenica ha sequestrate 38 strutture balneari. Eccola la notizia in primo piano. Autorizzate solo per l'estate, ma nessuno le aveva rimosse. 45 denunce. Intervento della Capitaneria di Porto in 4 province. E ancora dalla Regione Calabria, che stanzia 120 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Saranno erogati questi fondi in tre anni. Andiamo avanti. Ci trasferiamo a Catanzaro. In primo piano il caso che riguarda il cimitero cittadino. Cimiteri dalla dignità calpestata. Il titolo ha via Paglia e a Lido. Buche che non ti aspetti. E fontanelle irriverenti. La denuncia. Mio padre era in lista d'attesa, ma un loculo è già occupato. Dunque, la polemica e l'articolo riguarda il cimitero cittadino in precarie condizioni, come si può ben vedere da questo reportage fotografico. Andiamo avanti. Ci trasferiamo a Soverato verso il voto PD e cambiamenti. Prove di intesa. I democratici ai giovani professionisti aderiti al nostro progetto per le comunali. La risposta è attesa la settimana prossima, oggi incontro del Faro. Alla mezzia terme il processo per seo tutte gratis e poi gli sconti al clan. Concluso il controesame del collaboratore di giustizia Umberto Egidio Muraca nella prossima udienza depositerà la moglie dell'ex boss Jean Pa. Dunque, gli sconti nei negozi agli esponenti del clan Jean Pa, i rapporti del pentito con alcuni imputati e le truffe alle assicurazioni, hanno caratterizzato l'udienza di ieri del processo per seo. Un'udienza più breve delle altre due ore, infatti, di controesame del collaboratore di giustizia Umberto Egidio Muraca, dei difensori dei 21 imputati ritenuti esponenti del clan Jean Pa. E sempre dal Lametino, con il sequestro di 3.300 prodotti insicuri, operazione dei baschi verdi della finanza in due negozi cinesi, due esercizi commerciali ubicati a Nicastro, sanzione di 1.032 euro e la denuncia di un commerciante cinese. A Crotone, far west dal fornaio, preso così il titolo, dunque spari contro il panificio dopo una lite per uno sguardo di troppo a una ragazza. Nel negozio, aperto anche di notte, si trovavano alcuni avventori e il titolare, inseguito e arrestato dalla polizia, il complice scappa nella foto, il panificio finito nel mirino. Ancora andiamo avanti, vediamo quali sono le altre notizie. vediamo di, eccola, Vibo Valencia. Ovviamente si parla delle primarie, le primarie che si svolgeranno proprio domani, che decreteranno il nome del candidato a sindaco del centro-sinistra. Soltanto 24 ore, poi il candidato. Domani urne aperte, dalle 9 alle 21. Seggi allestiti in città e nelle frazioni. In Lizza, lo schiavo del PD, Giamborino, campo democratico e Colelli di SEL. Dunque la CISAL su queste, parla poi di un altro argomento delle elezioni dell'RSU, oggi incontra i candidati. E ancora sempre in primo piano, sulla pagina di Vibo Valencia, confermata la correttezza giuridica, soddisfatto mangio a lavori dopo il rigetto del ricorso presentato da parente. Dunque la Corte d'Appello di Catanzaro ha riconosciuto la piena legittimità della mia elezione alla carica di consigliere regionale. E' soddisfatto Giuseppe Mangiolavori, il quale ricorda che è stato respinto il ricorso presentato da Claudio Parente, primo dei non eletti della Casa della Libertà. Un risultato, commenta l'interessato, che conferma la correttezza politica, istituzionale e giuridica della mia posizione. E andiamo avanti. Sempre, ecco, vediamo dal Vibonese, si parla di mercati. Altro appello al Comune, Catania ed Andrea, tanti operatori non riescono a mettersi subito in regola. Assegnazione dei posti, gli ambulanti chiedono una proroga più lunga, dunque un solo mese di proroga non può bastare. Vogliamo metterci in regola, dicono i commercianti, con i pagamenti, ma vista la situazione di grave crisi del settore, chiediamo al Comune di darci un po' di tempo per poterlo fare. Dunque questo l'appello di Antonello Catania, vicepresidente di ConfCommercio e Pino Andrea, presidente della sezione ambulanti, che vediamo nella foto, nel riquadro. E ancora, l'avvertenza Mare Nostro, si spera nella regione, il consigliere regionale mangia lavori incontro a una delegazione di lavoratori e sindacati, niente proclami, leggerò la documentazione che mi è stata data, così il consigliere mangia lavori per quanto riguarda appunto questa avvertenza dei lavoratori della Mare Nostro di Portosalvo. Andiamo avanti, 30 volontari vibonesi all'Expo. Il presidente Garzulli, occasione professionale importante per questi giovani, la selezione è portata a compimento dal Centro Servizi Provinciale. E ancora la Proloco, valorizzare il bacino portuale nei 150 anni della nascita. Andiamo avanti, c'è un altro argomento che riguarda le manifestazioni che si sono svolte a Vibo in occasione del San Valentino, conclusa da tre giorni di riflessione e di dibattiti sul concetto di amore. Questo è il tema che la Proloco di Vibo Valencia ha voluto dedicare in occasione del San Valentino. Andiamo avanti, una via dedicata alla Littorina. Alla cerimonia presenti il prefetto, il sindaco e i vertici delle ferrovie. Dai presidi Assisi e Namia, figli di dipendenti delle ferrovie, rispolverato un pezzo di storia. Nella foto il prefetto Giovanni Bruno, mentre svela la targa in memorio della gloriosa storia della Littorina, ricordati durante la cerimonia i nomi dei morti nell'incidente del novembre del 1951. Ancora la Danicotera, una notizia che riguarda la scuola elementare della frazione Marina. Cede una parte del soffitto, il crollo, interessato il plesso delle elementari della frazione Marina. In via precauzionale, bambini trasferiti nella vicina sede dell'Unitalsi. Bisogna dire comunque che il crollo non ha provocato alcun ferito, in quanto l'aula in quel momento era vuota. Dunque ancora dal Vibonese si parla dello stadio Lapa, è agibile, titola questa mattina il quotidiano del Sud. Mario Solano, abbiamo vinto la partita più importante della nostra storia, dice. L'impianto sportivo era stato chiuso dall'Asp di Vibo Valencia. Sempre Danicotera, giudice di pace, la giunta non perda il treno offerto dal decreto mille proroghe. E questo è l'auspicio del consigliere Arfuso. E ancora, andiamo avanti, altre notizie. Da Caria, l'appello no alla chiusura della posta. Il Consiglio Comunale Aperto si esprime contro l'interruzione del servizio. Il consigliere regionale Mangialavori porteremo avanti questa battaglia. E poi da Serra a San Bruno, un altro argomento, avviata la campagna di sensibilizzazione sul rispetto degli animali da parte della locale Proloco. Sempre dal Vibonese, Comune, in particolare siamo a Serra a San Bruno, pronta la nuova giunta. Il sindaco Bruno Rossi dovrebbe richiamare De Caria e sacrificare Bertucci. Giuseppe De Raffaele in pol per guidare l'assemblea municipale. Per quanto riguarda invece San Nicola da Crissa, nel segno delle antiche tradizioni, i chistisimu animano il Carnevale San Nicolese. Da Filadelfia al Comune, strana anticipazione di cassa di 1.500.000 euro i rilievi di Caglioti. Un'ultima notizia, sempre che riguarda il Vibonese, riguarda in particolare il paese di Rombiolo, il sindaco di Spiegazioni Barletta, sull'azzeramento degli incarichi e dirigenti. Dunque l'esponente Grillino attacca così l'amministrazione comunale di Rombiolo, tessera del PD, il solito scandalo, afferma, si legge così nel virgolettato dell'articolo. E ancora le tecniche di soccorso, un altro argomento in discussione proprio a Rombiolo, incontro formativo tenuto nei locali dell'auditorio, un'iniziativa promossa da Giuseppe Ventrice, ecco come salvare una vita umana nell'articolo. Ci trasferiamo in provincia di Cosenza, in primo piano, sempre dalle pagine del Quotidiano del Sud, la notizia che riguarda il castello, non diventi discoteca. Questo è l'appello, sopra il luogo della Commissione Lavori Pubblici al cantiere ormai in chiusura, minoranza scettica sull'affidamento ai privati, vincitori di un bando regionale. In particolare i lavori di restauro sono stati aggiudicati nel 2009. E nella foto il sovralluogo della Commissione Lavori Pubblici al castello di Cosenza. E ancora, sempre dal Cosentino, si parla della notizia relativa allo sciopero dei medici dell'azienda ospedaria di Cosenza in stato di agitazione, hanno proclamato proprio una giornata di sciopero che si terrà in particolare il prossimo 26 novembre. Sono allo stremo, hanno dichiarato ieri durante l'incontro con i sindacati, ormai la situazione è al collasso, chiedono appunto la nomina di un commissario alla Sanità per lo sblocco del turnover. Queste almeno le richieste dei medici. Andiamo a vedere proprio questo articolo, questo argomento. Medici sciopero inevitabile incontro dei sindacati per stabilire le modalità garantite le emergenze. I camici bianchi protestano per le condizioni in cui versa in particolare l'ospedale annunziata. Gli infermieri e la loro dichiarazione sanità sull'orlo del baratro sposato costretti ad orari massacranti per la mancanza di personale acquando la nomina del commissario, si domandano appunto i sindacati. Poi un altro articolo riguarda l'ecosostenibilità. La casa diventa intelligente con l'alta tecnologia nel design. Apre a Cosenza Domo Innovation dunque l'i-tech che ridisegna la casa in questo articolo che potete trovare stamattina sulle pagine del quotidiano del Sud. Bene, questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo come sempre per pochi minuti di pubblicità e diamo pure spazio alle nostre consuete rubriche. La rassegna stampa torna tra pochissimi minuti. Restate con noi e ancora tutti voi l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.